Buongiorno a tutti! Allora, è giovedì! È giovedì! No, è giovedì! No, è giovedì! No, è giovedì! Facciamo sempre i test per andare alla ricerca dei materiali migliori per soddisfare le esigenze delle nostre mamme e delle nostre artiste. Allora, abbiamo fatto il test con due gesti differenti. Abbiamo visto che questo è più liscio, questo è rimasto un po' più poroso, ma quello che faremo oggi, che gladia disperata! Aiuto! È il crash test! È il crash test! Perché? Non solo per le macchie, ma anche per la belly art! Perché noi ci chiediamo a dare un prodotto che sia perfetto nel tempo, per cui... Testiamo ogni parte! Testiamo ogni parte! Per cui... Allora, intanto dobbiamo dire una cosa importantissima. Questo non è un pancione... No, esatto, infatti, esatto, di una mamma. Di una mamma che sta aspettando il suo lavoro! Non lo faremo mai! Mi dispiace, c'è, come adesso figurate con una mamma vera! No, mamme tranquille! L'abbiamo creato per fita! Andato, apposta! Proprio per fare questi test! Allora, tu di lì! Io di qua! Il crash test è pronto! Abbiamo circa un... Operatore Lori dietro! Alla telecamera! Alla telecamera! Mi riprende! Dobbiamo buttarlo, eh, Claudia! Non lo lasciare a venire! No, non lo aggiuntiamo proprio! Chissà che rumore! Oh, aiuto! Aiuto! Siamo pronte? L'ho ripronto? Andiamo! Lo stiamo facendo per voi! Per voi! Però intanto ci divertiamo anche! Lei ha l'ansia! Però ci sono l'ansia! Pronti? A tre? Sì! Uno, due, tre! Via! Oddio! Oddio! Cosa abbiamo fatto? Oddio! Lori, guardiamo! Guarda, guarda, guarda! Mi sento male! Io mi sento male! Buona Pasqua! A proposito, abbiamo rotto l'uovo! Sì, sì, se lo faccio io l'uovo! Siamo talmente vicini a Pasqua! Oh, mio Dio! Comunque abbiamo visto che questo di qua si è completamente spaccato! Questo invece è rimasto! Ma qua avevamo messo su già il primer, quindi magari ha tenuto insieme! Ragazzi, lei è disperata perché adesso deve sistemare tutto! Immagino che lo scrosterò del tutto! E ricomincerò da capo! E ricomincerò da capo! Comunque abbiamo capito che questo è un po' di più! Il materiale che useremo d'ora in poi! E non ci dispiace per niente! Non ci dispiace per niente! Poi ovviamente dipende anche dalla caduta, dal tipo di caduta! Questa è la drastica! Sì! E soprattutto voi mamme non lo fate! Non lo mettete neanche in alto! Evitate di metterlo sui mobili molto alti! Forse è meglio! Ok! Gatti in giro! Ciao! Ciao! Buona Pasqua! Mi moro tu! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Ciao!